Saldo positivo per il lavoro nella marca. A confermarlo i dati del 2015 diffusi oggi della CGL che segnano un saldo tra assunzioni e licenziamenti in positivo di 6.700 unità. Ancora lontano il traguardo dei 18.000 posti persi in questi 8 anni di crisi, ma comunque un dato che punta all'ottimismo, soprattutto nel settore dei servizi, inattivo per quasi 4.600 posizioni. Tra i territori è il Monte Bellunese a trainare con un saldo attivo di assunzioni nello scorso anno di 1.480 unità. La conferma di un sempre più marcato spostamento dell'economia provinciale verso il terziario. Rimangono invece difficili i comparti del legno arredo con altri 320 contratti cessati e non sostituiti e il tessile abbigliamento calzature in rosso per 285 posizioni. Quanto alla formazione risulta in vantaggio che ha un titolo di studio. Tra i diplomati e i laureati i neossunti superano chi ha perso il lavoro per oltre 12.000 unità. Questo è un motivo sicuramente di fiducia rispetto al futuro, ma va letto con molta attenzione. Uno dei motivi principali per cui questo è avvenuto oltre al cosiddetto risveglio economico nel 2015 sono gli incentivi e le assunzioni che le aziende hanno ricevuto per assumere a tempo indeterminato le persone. Cosa positiva che però va letta anche nella temporaneità che questa misura ha. Bisogna però consolidare questa crescita e per il sindacato il primo intervento è nel passaggio generazionale sul lavoro con la legge Fornero. Come Cigelle e Cislui tra l'altro domani siamo in piazza a Venezia nel Veneto e da Treviso partono oltre mille lavoratori e pensionati per manifestare il nostro dissenso rispetto alla riforma Fornero ma soprattutto la nostra proposta di modifica. Lo ripeto, la modifica serve principalmente per fare andare in pensione le persone più anziane e più stanche e creare posti di lavoro automaticamente per le persone che in questo momento non ce le hanno.